Sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale, aperto i miei occhi, ottenebrati da quelle oscurità, utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale, offro a lui il mio rispettoso omaggio. Om Ajnati Mirandasya, Jnananjana Shadakaya, Chaksurum Miritam Yena, Tasmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Voglio ringraziarvi per essere qui, per aver scelto di passare in questo modo parte del vostro tempo prezioso. C'è anche Maddalena, Angela e Michelle. Benvenuti, grazie di questa presenza. Allora, oggi continueremo la nostra storia che stiamo portando avanti ormai da qualche episodio. Vi ricordo che siamo al ventitresimo episodio di questa rubrica Narrazioni Vediche. Ma prima, ed è la storia di Druva, Druva Maraj, ma prima di entrare nel merito, l'altra volta eravamo rimasti in sospeso con Mauri. Ormai è diventata quasi una consuetudine che con Mauri si arriva sempre alla fine e lui fa qualche domanda che poi dobbiamo ripassare nella puntata successiva. Non so se Mauri è già in collocamento, ma se non lo è può ascoltare indifferita la mia risposta. Allora, la domanda di Mauri è legata al personaggio Druva e alla figura dei Magiana. Chi sono i Magiana? I Magiana sono considerati tra i devoti. Oh Joël, omaggio anche a te, benvenuta. Dicevo, i Magiana sono dodici e sono considerati i devoti a cui più fare riferimento. Lui chiedeva, Mauri, perché qui non riesco a vederlo, io mi arrangio un po' con la tecnologia, non sono proprio così tecnologico, quindi a volte faccio fatica a leggere le vostre domande, le vostre considerazioni. Adesso per dire sto facendo fatica a risalire alla domanda che ha fatto Mauri in occasione del ventiduesimo episodio, ma credo di ricordare a occhio e croce che la sua domanda fosse riferita a Druva e ecco, la domanda è se un Magiana, cioè se fa parte di queste dodici autorità in campo spirituale, per quello che riguarda naturalmente la conoscenza dei Veda, ecco, è arrivato. Nitai Goranga anche a te, Mauri, benvenuto, benvenuti. Quando dice Nitai Goranga mi fa ricordare che ieri è stata una giornata stupenda, non so chi di voi ha partecipato attivamente o indirettamente a questa giornata che è considerata per noi, che stiamo cercando di approfondire la cultura vedico-vaishnava, conosciuta come il godia-vaishnavismo, per noi è considerata la giornata più importante dell'anno, ovvero Gora Urnima. Purnima significa luna piena e Gora, ovvero Goranga, è il Signore Cetania. Quindi, essendo noi godia-vaishnava e seguendo il calendario lunare che parte proprio dalla nascita del Signore Cetania, praticamente ieri per noi era capodanno, perché da oggi comincia il primo giorno del calendario vaishnava, del calendario lunare. Ed è stata una festa qui a Prabhupada-desha molto bella, ci sono venute tante persone, anche perché è corrisposto con una giornata di festa, di domenica. Credo che ci siano state 200-250 persone alle divinità che noi adoriamo, chi è Prabhupada-desha, che sono proprio Gornitai, i primi Gornitai installati in Italia. E tra l'altro quest'anno sono 50 anni che si festeggia la loro apparizione qui in Italia, la loro installazione e ci sarà anche lì un grande festival. Chi vuole qualche nozione in più, qualche accorgimento in più, qualche informazione in più, può visitare il sito di Prabhupada-desha o la pagina Facebook di Prabhupada-desha. Ma giusto per darvi un'idea, si terrà questo festival il 18 e il 19 di maggio, in cui ci saranno degli eventi veramente molto speciali, una crociera a Venezia e le sue isole. Insomma, vi sto dando qualche consiglio di come passare quel weekend che avverrà tra qualche tempo. Quindi ieri è stato l'ultimo giorno dell'anno e oggi comincia un nuovo anno per noi, Gaudiya Vaishnava, ed è corrisposto con l'apparizione del Signore Cetania. Credo che la maggior parte di voi comunque sa di chi sto parlando, quindi non voglio dilungarmi molto su questo aspetto. Solo dirvi che spero che voi avviate passato questa giornata in maniera, diciamo, come una giornata speciale. Io l'ho passata come una giornata speciale, perché il Signore Cetania è per noi veramente il riferimento più importante, anche perché in ordine di tempo, come Avatara, come manifestazione del Divino è l'ultima manifestazione che si è presentata 537 anni fa a Navadwip, in India praticamente, nel Bengala. Detto questo, grazie Mauri che con il tuo Nitaigo Ranga mi hai fatto ricordare questo bellissimo evento, stavamo proprio parlando di questa tua domanda e della possibile ipotetica risposta. Pietro, Hare Krishna, anche a te, grazie di essere intervenuto, grazie di essere presente. Allora, la domanda, come ti ricordo, era su Druva. Se è un Magiana e se non lo è, per quale ragione? Io ti dicevo che mi sarei informato a questo riguardo e ho preso riferimento al verso che elenca i dodici Magiana, che chi lo volesse approfondire siamo nel sesto canto dello Srimad Bhagavatam, il titolo del capitolo terzo che è Yamaraj istruisce i suoi messaggeri e verso 20 elenca i dodici Magiana, ovvero le dodici autorità in materia, nel campo spirituale, che sono Ovvero, questo è il verso sanscrito, Dice Benvenuto anche a te, Carlo Dice Brahma Bhagavan Narada Shiva I quattro Kumara Shikapila Il figlio di Devauti Svayambuva Manu Pralad Maraj Janaka Maraj L'anziano Bhishma Bali Maraj Sukadeva Goswami E anche io conosciamo il vero principio della religione E poi c'è il verso successivo che dice Mie cari servitori Si riferisce ai suoi servitori, ovvero gli Yamaduta Questo principio religioso trascendentale conosciuto come Bhagavad Dharma, cioè la sottomissione al Signore Supremo e l'amore per Lui, non è contaminato dalle influenze della natura materiale. E' molto confidenziale Ed è di difficile comprensione per i comuni esseri umani. Ma se qualcuno ha la grande fortuna di poter giungere a tale comprensione, è immediatamente liberato e torna a Dio nella sua dimora originale. Ecco, questo è il verso in questione. Io ho letto anche, per cercare di darti una risposta, insomma questo è un po' il mio compito, Anche se a volte, come in questo caso, non riesco ad assolverlo nel modo più corretto. Perché la cultura dei Ved è una cultura così ampia, così vasta, che non sempre si hanno le competenze giuste per rispondere alle domande come la tua, Mauri. Perché io l'unica... Allora, intanto ti dico che nella spiegazione Shira Prabhupada non fa nessun riferimento al perché qui vengono elencati 12 autorità in materia. Per quale ragione? Quindi, siccome Shira Prabhupada non ne parla, seguendo il suo esempio, io non ne posso parlare, nel senso che... Intanto saluto Giovanni, Hare Krishna e mi omaggio anche a te. Se mi permettessi di entrare nel merito di qualcosa che non conosci, non potrei fare altro che speculare. Quindi perché darti una risposta speculata? Piuttosto preferisco non dartela questa risposta. Non so se riesci a comprendere quello che ti voglio dire. C'è nel senso che qui c'è già una risposta alla tua domanda, ovvero Druva non è annoverato tra i 12 Magiana, tra le 12 autorità spirituali. Il motivo per cui questo succede io non te lo so spiegare. Naturalmente devi capire anche, e qui già sto cominciando a speculare, non vorrei andare troppo col tre, che qui sono proprio le autorità in materia. Ci sono grandi personaggi che vengono elencati, grandi devoti, come Ambarish Amaraj, lo stesso Pritum Amaraj, ma nessuno di loro è annoverato tra i 12 Magiana. Quindi chi ha fatto questa scelta, che è uno di loro, ovvero Yamaraj, avrà avuto i suoi motivi per dare questo elenco. Ma io questi motivi non te li so spiegare, perdonami per la mia mancanza di conoscenza. Magari se un giorno tu farai una ricerca e riuscirai a trovare la motivazione per cui sono elencati questi 12 Magiana, ti prego Mauri, rendimi anche a me, diciamo, consapevole di questa informazione. Detto questo possiamo andare avanti con il nostro racconto che è il racconto di Truva. Ho titolato questo incontro il re Uttanapada riabbraccia suo figlio Truva. Perché l'altra volta avevo titolato l'episodio Truva ritorna a casa, ma per una ragione o per l'altra Mauri dice a fine puntata aggiungo la mia domanda incompleta a ciò che volevo dire. Grazie. Grazie a te Mauri e perdonami ancora se non sono riuscito a darti le informazioni che cercavi. Adesso aspetto che tu mi dia qualche feedback più diciamo più specifico per capire anche cosa volevi dire con la tua domanda. Perché ti ricordo che l'altra volta non sono riuscito a leggere la prima parte della domanda per motivi tecnici. Detto questo aspettando che Mauri a fine puntata possa dare qualche delucidazione in più su quello che voleva dire ritorno al nostro Truva praticamente. Dicevo che la volta scorsa avevo titolato l'episodio Truva torna a casa ma per una ragione o per l'altra non siamo arrivati a quel punto. Quindi mi sono dovuto inventare in qualche modo un altro titolo che però è reale ovvero Eseo Tannapada riabbraccia suo figlio Truva. Siamo altra volta avevamo letto praticamente il verso trentacinquesimo che voglio rileggere così capiamo un po' da dove ci siamo fermati e da dove ripartiamo. Qui c'è Truva che si sta lamentando perché? Perché dice avevo tra le mani il diamante più prezioso e cosa ho chiesto? Ho chiesto dei pezzi di vetro. Quindi Truva si rende conto che tutti i suoi sforzi per avvicinare Dio per chiedergli delle cose materiali erano degli sforzi veramente inutili cioè inutili che hanno dato la sua soddisfazione ma dopo tutto ho ottenuto Dio e cosa gli ho chiesto? Gli ho chiesto un regno gli ho chiesto delle cose materiali ma che stupido che sono stato. Questo è il sentimento che ha Truva dopo aver realizzato Dio e dopo aver ottenuto da Lui le cose materiali che cercava. Ripeto verso trentacinquesimo A causa del mio stato di completa stupidità e della scarsezza di attività virtuose ho desiderato il nome la fama e la prosperità materiale sebbene il Signore mi avesse offerto il suo servizio personale. Il mio è proprio simile al caso di quel pover uomo che avendo soddisfatto un grande imperatore il quale era disposto a concedergli tutto ciò che gli avesse chiesto per ignoranza chiese solo un pugno di riso spezzato. Ecco io avevo Dio di fronte potevo chiedergli la più grande benedizione la realizzazione spirituale il ritorno a casa nella mia dimora originale nella nostra dimora originale e cosa gli ho chiesto gli ho chiesto dei benefici materiali. Il saggio Maitreya continuò Mio caro Vidura le persone come te puri devoti dai piedi puri devoti dei piedi di loto di mucunda Dio la persona suprema che può offrire la liberazione che sono sempre attratti dal miele dei suoi piedi di loto si sentono sempre appagati nel servire i piedi di loto del Signore in qualsiasi condizione di vita queste persone restano soddisfatte perché non chiedono mai al Signore la prosperità materiale. quando il re Utanapada sentì che suo figlio Druva stava tornando a casa come se ritornasse in vita dopo essere morto non poteva prestar fede alla notizia tanto era pieno di dubbi circa la possibilità di tale avvenimento si considerava il più miserabile perciò pensava che non fosse possibile per lui ottenere una così grande fortuna il padre di questo bambino Druva sapeva che a causa sua suo figlio era andato nella foresta la foresta è piena di pericoli e quindi lui addirittura trovava incredibile che questo bambino a 5 anni rimasto 6 mesi nella foresta ritorna vivo e si rammarica per essere stato lui una delle cause della scelta di suo figlio di andare nella foresta ormai suo figlio lui lo considerava perduto quindi quando lo vede ritornare è preso da una grande gioia benché non potesse credere alle parole del messaggero aveva piena fede nelle parole del grande saggio Narada sopraffatto dalla notizia con grande soddisfazione offre subito al messaggero una preziosa collana quindi un messaggero va da Uttanapada e dice guarda che tuo figlio sta ritornando e lui elargisce generosamente una preziosa collana ambasciatore non portapena ma questo ambasciatore ha avuto un grande beneficio essendo molto ansioso di vedere il volto del suo bambino perduto il re Uttanapada montò su un carro tirato da eccellenti cavalli e ornato di filigrana d'oro portando con sé molti brahman eruditi gli anziani della famiglia gli ufficiali i ministri e i suoi amici intimi lasciò immediatamente la città il corteo era accompagnato dal suono augurale di conchidie di tamburi e flauti e il canto di mantra vedici indicava ogni buona fortuna le due regine del re Uttanapada suniti e suruci insieme con l'altro figlio Uttama partecipavano al corteo le regine erano sedute su un palanchino quindi Uttanapada non aspetta neanche che suo figlio torna al palazzo ma appena sente la notizia che lui sta arrivando va di corre incontro insieme a tutto il suo seguito alla vista alla vista di Druva Maraj che avanzava verso i boschetti vicini il re Uttanapada in grande fretta scese dal carro da tanto tempo ardeva dal desiderio di vedere suo figlio Druva perciò con grande amore e affetto si precipitò ad abbracciare il suo ragazzo da tanto tempo perduto col respiro affannoso il re lo abbracciò stretto ma Druva non era più il bambino di un tempo era stato completamente santificato dall'avanzamento spirituale per essere stato toccato dai piedi di loto di Dio la persona suprema il desiderio tanto a lungo accarezzato dal re Uttanapada di ritrovare Druva era stato esaudito e per questa ragione egli odorava ancora e ancora la testa di Druva e lo bagnava con torrenti di fredde lacrime allora Druva che era il più grande tra i nobili offrì prima di tutto i suoi magi ai piedi di suo padre e fu da lui onorato con varie domande poi chi non la testa ha i piedi delle sue due madri su Luci la madre più giovane di Druva vedendo che il ragazzo innocente era caduto ai suoi piedi immediatamente lo rialzò tenendolo tra le braccia versava lacrime sincere e lo benediceva con queste parole mio caro ragazzo che tu possa vivere a lungo a colui che possiede le qualità trascendentali grazie al suo comportamento amichevole con Dio la persona suprema tutti gli esseri viventi offrono il loro omaggio proprio come per natura l'acqua fluisce verso il basso benvenuto Oriano qui c'è una spiegazione di Prabhupada che io credo che sia interessante perché approfondisce un tema che poi possiamo di cui possiamo anche che noi possiamo approfondire quindi spiegazione di Scina Prabhupada ci si può chiedere a questo proposito perché Suruci che non era stata favorevolmente disposta verso Druva ora lo benedicesse augurandogli una lunga vita il che significa che anche lui desiderava che anche lei desiderava per lui una grande fortuna nel frattempo ci ha raggiunto anche Salvatore benvenuto Salvatore Hare Krishna anche a te omaggi in questo verso è data la risposta poiché Druva Maraj era stato benedetto dal Signore per le sue qualità trascendentali tutti erano tenuti a offrirgli rispetto e benedizione scusate proprio come per natura l'acqua fluisce verso il basso un devoto del Signore non esige rispetto per nessuno non esige rispetto da nessuno ma è onorato da tutti col massimo rispetto nel mondo intero Shinivas Acharya affermò che i seigos fami di Vrindavana sono rispettati in tutto l'universo perché il devoto che soddisfa Dio la persona suprema che la fonte di tutte le emanazioni automaticamente soddisfa tutti e per questo tutti sono rispettosi verso lui allora leggo ancora qualche altro verso e poi magari facciamo un punto su questo comportamento di Truva e anche sul comportamento della sua matrigna su Luci procediamo col verso 48 anche i fratelli Uttama e Truva Maraj scambiarono tra loro saluti e lacrime erano sopraffatti dall'estasi dell'amore e dall'affetto e mentre si abbracciavano sentirono i peli del corpo rizzarsi Suniti la vera madre di Druva abbracciò il tenero corpo del figlio che le era più caro della sua stessa vita e per la grande gioia dimenticò così ogni dolore materiale mio caro Vidura Suniti era la madre di un grande eroe le sue lacrime insieme al latte che scorreva dal suo seno bagnarono completamente il corpo di Druva Maraj e questo era segno di grande fortuna benvenuto angelo Hare Krishna gli abitanti del palazzo lo davano la regina ecco io magari mi fermerei qui per fare quel punto che un po' che vorrei fare il comportamento di un Vaishnava vi ricordo la situazione che ha portato Druva ad andare nella foresta molto brevemente naturalmente il tutto nasce da il momento in cui Druva piccolo bambino vuole salire sulle ginocchia del padre da dove c'era già suo fratello Uttama nel vedere questo su Ruci la matrigna di Druva vede un gesto come se Druva volesse salire sulle ginocchia del padre che era seduto sul trono come una sua intenzione di diventare il futuro re e quindi presa da un'invidia lo apostrofo con parole dure dice tu non puoi salire sulle ginocchia di tuo padre perché io sono la regina più favorita e quindi è mio figlio che dovrà diventare il futuro re lui ha il diritto di giocare sulle ginocchia del padre e poi addirittura gli dice se vuoi ottenere la possibilità di regnare devi chiedere al Signore di farti rinascere nel mio grembo solo allora in pratica potrai ottenere quella posizione in pratica è come se gli avessi augurato la morte pensate dove arriva nel momento in cui c'è la rabbia nel momento in cui c'è l'invidia la mentalità di una persona augurare la morte a un piccolo bambino era una cosa che non aveva un grandissimo valore dunque il comportamento di Suruci è stato un comportamento molto molto negativo verso Druva e per questo che Druva va nella foresta perché ascoltando i consigli di sua madre della sua madre reale ovvero Suniti decide di andare nella foresta cosa gli dice Suniti è interessante come questa donna la madre vera reale di Druva la prima cosa che dice a Druva è non augurare mai del male a nessuno veramente una una forma di saggezza molto molto importante no anche Suniti la madre di Druva era disturbata dal comportamento della seconda moglie di suo marito ma ciononostante usando l'intelletto ha detto non augurare del male a qualcuno o è arrivato anche Claudio benvenuto benvenuto allora qual è il punto che Druva poteva avere cioè è partito per andare nella foresta a cercare Dio perché la madre gli aveva detto anzi non solo non devi augurare del male a qualcuno ma anche se ti ha fatto del male devi cercare di capire che opportunità hai anche da quel dolore che hai ottenuto lei facendoti del male però ti ha detto una cosa molto vera che l'unica persona che ti può aiutare è Dio quindi segui il suo consiglio ed è così che Druva va a cercare Dio nella foresta in ultima analisi seguendo il consiglio della sua matrigna quindi prende l'occasione cioè quella sofferenza quel essere stato disonorato lui l'ha presa come un'opportunità per migliorare la sua condizione questo è un insegnamento molto importante che tutti noi possiamo ascoltare percepire da questa storia quando qualcosa ci capita qualcosa che ci ha disturbato qualcosa che ci ha creato anche della sofferenza del dolore il primo ragionamento corretto è noi tutti conosciamo la legge del karma nessuno mi può recare un dolore a causa sua ma è soltanto un postino che mi sta recappetando un karma da scontare quindi io mi prendo quel karma ti hanno dato uno schiaffo poggi l'altra guancia non reagire a quello schiaffo con un altro schiaffo perché in quel caso tu metti in moto un altro karma se tu hai preso uno schiaffo è perché ti doveva arrivare niente viene a caso e sono tutti fattori karmici tu ti prendi lo schiaffo te lo metti in tasca ho esaurito parte del mio karma se tu reagisci dando uno schiaffo a chi ti ha dato uno schiaffo poi dovrai ricevere un altro schiaffo allora prendi il karma che ti è arrivato mettitelo in tasca e prosegui per la tua strada questo non significa che tu devi subire le ingiustizie senza reagire questo è un altro discorso che forse non è il caso di approfondire ma il concetto del karma tutto quello che ci capita come dice Carlo Alberto ognuno ha ciò che merita infatti c'è un detto popolare oggi sembra che il karma sia una cosa che viene dall'India dall'Oriente perché non solo l'induismo ma anche il il concetto del buddismo è tutto un fattore legato a questo concetto del samsara nascite e morti e prendiamo il risultato delle nostre azioni la Bibbia è piena di questi riferimenti chi di spada ferisce di spada perisce occhio per occhio dente per dente raccoglieremo quello che abbiamo seminato ma anche nella cultura popolare ognuno è artefice del suo destino quindi ti capita qualcosa prendila e mettiteli in tasca e addirittura meglio ancora di questo prendi quello che ti è successo come un'opportunità per migliorare il rancore ecco questo è il tema di questa sera uno dei temi perché poi vediamo un po' anche di andare avanti vediamo un po' è il concetto del perdono qui abbiamo visto che Truva si ritrova di fronte la matrigna che lo aveva così tanto disonorato che aveva usato con lui parole dure si ritrova davanti quel padre che davanti al comportamento sbagliato della moglie non proferisce una parola non uno sguardo di scuse niente una completa indifferenza adesso Truva torna da persona realizzata e non ha nessuna forma di rancore verso le persone suo padre e la sua matrigna che gli hanno creato per la difficoltà Truva ha perdonato Truva si è liberato da quel fardello il rancore è un fardello un fardello molto pesante c'è un professore che cercando di fare capire ai suoi studenti quanto il rancore sia un fardello dice oggi vi voglio dare un'opportunità allora qui ci sono delle patate qui ci sono dei sacchetti ognuno di voi prenda un sacchetto e metta in questo sacchetto per ogni persona con cui ha astio con ogni persona con cui ha avuto del rancore metterlo in questo sacchetto e gli studenti cominciano a riempire i sacchetti chi più chi meno tutti hanno questi sacchetti pieni di patate dice allora adesso per una settimana voi vi dovete sempre portare dietro questo sacchetto ma professore dovunque andiamo si dovunque andate ma se andiamo a letto vi dovete portare il sacchetto a letto se andiamo sotto la doccia dovete portarvi il sacchetto sotto la doccia se andiamo al cinema si questo sacchetto per una settimana vi deve accompagnare dopo una settimana i ragazzi tornano a scuola con i loro sacchetti pieni di patate e il professore dice adesso potete portarmi e mettere qui sulla scrivania i vostri sacchetti ah finalmente tutti hanno avuto questa reazione ah era ora non ce la facevo più e poi disse paragonate se qui ci sono i vostri rancori se qui ci sono se qui c'è il vostro astio adesso pensate a come vi sarete direte leggeri nel momento in cui lasciate questo rancore lasciate questo astio perché il rancore porta un peso e quel peso è un peso che ci trascina giù il rancore non ha non ha senso di essere in una persona saggia lo vediamo qui dal comportamento di Druva Druva ritorna ma ritorna con un altro spirito ritorna con il senso di gratitudine e quindi più che rancore è grato verso quelle persone attraverso il cui comportamento lui ha ottenuto di vedere Dio una cosa meravigliosa una cosa che si porterà sempre nel cuore grazie a quelle persone che diciamo noi possiamo vedere come le persone che gli hanno creato un disturbo perdono la stessa parola perdono il perdono è un dono nel momento stesso in cui noi non abbiamo rancore verso le persone che ci hanno fatto anche del male che ci hanno creato dei disturbi dei disagi noi stiamo facendo un dono ma non agli altri a noi stessi ci togliamo da un peso perdonare vuol dire donare e pensate questa cosa qua io non sono un grande conoscitore della lingua inglese però in inglese c'è questo stesso concetto si può fare lo stesso gioco di parole forgive for vuol dire per give vuol dire dono il perdono ci libera il rancore ci lega più le persone sono rancorose e questo lo potete mettere per iscritto non perché ve lo dico io ma perché è una realtà penso che molti di voi l'hanno realizzata è la cosa più lontana che ci può essere uno spiritualista uno spiritualista che ha rancore non è uno spiritualista lo spiritualista è grato non è rancoroso le persone che hanno rancore più rancore hanno più facilmente si trovano nella condizione di dover portare rancore e più stanno volando verso il basso mi ricordo da piccolo una barzelletta che si raccontava perché le persone che portano rancore possono portare rancore anche con le aspettative questo è un altro punto ovvero adesso vi racconto la storia e poi si capisce meglio il punto è un barzelletta magari vi viene anche da ridere non lo so perché non è che sia così tanto speciale come barzelletta la raccontavamo da bambini all'elementare allora Pierino è invitato a festa del compleanno di un suo caro amico come tutti i compleanni fra ragazzini ci sono i giochi ci sono i momenti di scambi di regali e poi c'è la torta la torta viene divisa ognuno mangia la sua parte alla fine della festa tutti vanno a casa Pierino essendo molto amico di questo festeggiato rimane per dargli una mano un po' a sistemare le cose a un certo punto mentre sistemano le cose si rendono conto che sono rimaste due fette di torta una è una bella fettona di quelle belle consistenti l'altra è una fettina piccola allora l'amico di Pierino gli dice che dice ce la vogliamo finire questa torta sì sì va bene lui era molto goloso Pierino allora scegli tu quale fetta ti vuoi prendere e Pierino si prende la fetta più grossa non appena ha visto questo comportamento il suo amico rimane quasi disgustato ah Pierino da te non me lo sarei mai aspettato Pierino dice scusa cosa hai fatto ma hai detto di scegliere io ho preso ho preso quello che pensavo fosse giusto no ma tu al mio posto cosa avresti fatto e lui fa ah io avrei scelto la fetta più piccola ed è proprio quello che hai preso ve l'ho detto che non era una barzelletta che faceva molto ridere però fa riflettere l'aspettativa dell'amico di Pierino era che lui prendesse la fetta più piccola e che gli lasciasse la fetta più grossa ma era una sua aspettativa ma il rancore nasce nel momento in cui viene tradita la tua aspettativa tu ti senti tradito dal comportamento di una persona perché avresti voluto che si fosse comportato come tu volevi e questa non è la relazione non funziona affatto convenite con me spero no che l'aspettativa e il tradimento dell'aspettativa non è legato a chi si aspettava che tu ti comportassi in questo modo il tradimento dell'aspettativa è un tuo problema personale e tu sei capace di portare rancore con una persona ah quella volta mi hai preso hai preso la fetta di torta più grande magari dopo dopo 50 60 anni questi amici si rivedono e lui ancora oh tu quella volta lì rancore peso ci dobbiamo liberare da questi pesi se vogliamo volare verso l'alto qui c'è l'insegnamento a volte basta poco per portare rancore verso qualcuno è sufficiente che magari una persona ti manda un messaggio whatsapp ti arriva il messaggio magari stai mangiando stai lavorando non riesci a rispondere a quel messaggio e la persona comincia a sviluppare rancore ma come non sta leggendo il mio messaggio voi voi sapete che ci sono queste due di niente qualcuno i più bravi tecnologici non lo fanno ma per me per diciamo le persone meno addentro la tecnologia capiamo che la persona ha letto il messaggio whatsapp quando quelle due righette diventano si colorano di blu allora sì peggio ancora peggio perché dice come ho visto che l'ha letto e ancora non ha risposto perché le persone si comportano così perché pensano che gli altri si comporterebbero come loro si comporterebbero cioè ci sono persone che appena vedono sentono il suono del cellulare plin plin subito vanno lì a vedere chi è leggono il messaggio e magari stanno mangiando magari stanno facendo delle cose importanti e non c'è problema lasciano tutto quello che stanno facendo per rispondere a quel messaggio e queste persone si aspettano che chi riceve il messaggio si comporti nello stesso modo a volte proiettiamo negli altri il nostro comportamento e se vediamo che le persone non hanno quel comportamento l'aspettativa ne soffriamo e cominciamo a portare rancore il rancore è un grande peso il perdono è un grande dono allora vediamo se riesco a leggere quello che ha scritto Monica perché a volte si è verissimo io per esempio pur essendo adulta non sono così saggia eppure prego Dio e cerco di essere corretta non ho capito niente è karma tremendo sai una cosa Monica nel momento stesso in cui dici non ho capito niente è perché hai capito perché le persone che non hanno capito niente non pensano di non aver capito niente il karma è tremendo e ce lo dobbiamo piano piano digerire Shira Prabhupada dice sempre e io ve lo posso prendere decine centinaia di volte vita spiritualità e vita spirituale e gradualità chi corre troppo nella vita spirituale deve stare schiscio deve stare attento troppo entusiasmo non va bene bisogna fare dei passi ponderati è meglio fare un passo dopo l'altro e arrivare alla fine di questa maratona che fare una corsa tremenda e poi accasciarsi con il fiatone questo è la vita spirituale fare un passo quando sei sicuro che quel passo non ti farà ritornare indietro perché se fai un passo troppo affrettato poi ti può capitare e io ho visto tante persone ritornare indietro detto questo vediamo intanto che ore abbiamo fatto io guardo sempre l'orario ho 18.50 ma come passa il tempo io pensavo che fossero al massimo le 6.30 invece sono già le 18.50 quindi seguiamo l'esempio di Druva che nonostante avesse di fronte le persone che gli avevano creato un forte disagio nel momento in cui le vede le abbraccia è felice di stare con loro così come loro sono felici di stare con lui perché perché non ha mostrato nessun rancore nessun risentimento è stato tradito ma non porta rancore e quando noi riusciamo a fare a mostrare alle persone la gratitudine per le cose che succedono e quelle persone se sono intelligenti e nel nostro caso sia Re Utanopada sia la matrigna di Druva su Luci sono state molto intelligenti hanno capito il loro errore non si sono scusate non ce n'era bisogno ma con il gesto che hanno fatto addirittura la madre la matrigna dopo avergli detto quelle parole aspre e dure e dice mio caro ragazzo che tu possa vivere a lungo versava lacrime sincere questa parola è molto importante lacrime sincere non c'era bisogno di scuse già il comportamento era un'evidenza di quelle scuse leggiamo ancora qualche verso ecco eravamo arrivati qua se non sbaglio ecco sì tornare così sembra che tuo figlio potrà proteggerti per molto tempo e potrà mettere fine a tutte le tue sofferenze materiali cara regina il re si sentiva molto felice fece sedere druva e suo fratello sulla schiena di un'elefantessa e ritornò alla sua capitale dove fu glorificato da tutte le classi di uomini mi piace leggere ancora qualche verso perché qui c'è una descrizione dell'opulenza di questa città l'intera città era decorata con colonne di alberi di banane che portavano grappole di frutti e di fiori e si vedevano qua e là alberi di betel con rami e fogli c'erano anche molti cancelli costruiti in modo da somigliare a squali su ogni cancello vi erano lampade accese e grandi anfore d'acqua decorate con stoffe di vari colori con fili di perle ghirlande di fiori e con foglie di mango nella capitale erano molto i palazzi i cancelli e le mura di cinta già di per sé meravigliose che in questa occasione tutto fu decorato con ornamenti d'oro nelle città le cupole dei palazzi scintillavano come anche le cupole dei meravigliosi aeroplani che sorvolavano la città forse è meglio leggere la spiegazione di Prabhupada almeno in parte Shimat Vijayad Vajatirta sostiene a proposito degli aeroplani menzionati in questo verso che in quell'occasione anche gli esseri celesti dei sistemi planetari superiori scesero con i loro aeroplani per elargire le loro benedizioni a Druva Maraj al suo arrivo nella capitale del padre sembra anche che le cupole dei palazzi della città i pinnacoli degli aeroplani fossero decorati con lavorazioni ornamontali d'oro che scintillavano sotto i raggi del sole possiamo notare in particolare la differenza tra il tempo di Druva Maraj e i tempi moderni gli aeroplani in quel tempo erano fatti d'oro mentre oggi sono costruiti con materiali di scarso pregio come l'alluminio questo ci dà un'idea dell'opulenza del regno di Druva Maraj e della povertà dei tempi moderni vi ricordo che Druva è la terza generazione dall'inizio della creazione dell'universo quindi siamo in pieno Satya Yuga Satya Yuga indica la prima era l'era dell'oro quindi niente di strano se in questo contesto in questa era così virtuosa di esseri così elevati ci fossero questi contatti tra gli esseri umani e gli esseri celesti che venirono a glorificare il Signore no e a glorificare Druva con i loro aeroplani tutti gli incroci i viali e le strade delle città come anche le piattaforme sopraelevate agli incroci erano state completamente pulite e spruzzate con acqua mista a polpa di sandalo e cereali propizi come riso orzo fiori frutta e altri oggetti di buon augurio erano stati sparsi per la città così mentre Druva passava lungo la strada da ogni luogo dei dintorni le Signore si riunivano per vederlo e a causa del loro affetto materno gli offrivano le loro benedizioni versando su di lui una pioggia di semi di mostarda bianca orzo yogurt acqua erba fresca frutti e fiori così mentre ascoltava i piacevoli canti delle Signore Druva entrò nel palazzo del padre in seguito Druva visse con suo padre nel palazzo le cui pareti erano ornate di gemme preziose il suo affettoso padre si prendeva particolarmente cura di lui ed egli abitava in quella casa proprio come gli esseri celesti vivevano nei loro palazzi su sistemi planetari superiori mi fermo qua sono 18.57 anche perché ho intravisto con la coda dell'occhio Mauri Morgan che dice adesso vediamo un po' anche qua perché siamo sempre nella stessa situazione della tecnologia in cui io non sono così io leggo la parte della tua domanda e vedo se riesco a leggerla tutta allora premesso che sono infiniti di insegnamenti vedici aggiungo che la mia domanda è volta all'osservazione che Krishna è infinito e che Parishi fa domande per attestare le sue glorie per attestare le sue glorie allora perché non riesco a leggere allora vediamo se almeno da qua riesco a leggere qualcosa scusa scusa eh Mauri niente nuovi commenti fammi rileggere allora sti nuovi commenti forse ce la faccio allora la rileggo premesso che sono infiniti gli insegnamenti vedici aggiungo che la mia domanda è volta all'osservazione che Krishna è infinito e che Parishi fa domande per attestare le sue glorie come dovremmo fare noi non solo con le domande in sé Druva ad esempio ho annoverato Druva tra i dodici Mahajan anche sapendo che non lo era perché al momento della dissoluzione cosmica tutte queste personalità non vengono toccate i Mahajan e chi raggiunge Druva Roca ecco questo testimonia la gloria dei devoti apparentemente Sakama Bhakta e che dimostrano come trascendere la Kalashakti e bypassare i desideri materiali e annoverati tra i Mahajan anche se non lo siamo mi scuso con tutti per l'ampiezza dei discorsi vedici e ringrazio Te Prabhu che stimoli le domande e osservazioni vediche ma seguiamo tutti le orme di Sukadeva e Parishit Hare Krishna è arrivata anche Claudia in ritardo va bene l'importante è che ci sei mi fa molto piacere allora scusate ho chiamato un attimino anche per leggere meglio la domanda di Mauri che ringrazio la sua la sua considerazione mostra quanto lui stia studiando e io mi auguro di riuscire magari quando andrò in pensione ad avere più tempo per leggere perché veramente questa conoscenza è una conoscenza infinita infinita veramente c'è sempre qualcosa da comprendere ogni giorno di più vediamo un po' se l'orario è quello giusto esattamente le 19 un minuto anzi sono già un minuto di ritardo quindi io vi ringrazio per essere stati così gentili nei miei confronti vi faccio i miei migliori auguri di una buona serata di una buona settimana in coscienza di Krishna lunedì è pasquetta quindi io comunque a meno che di come si dice situazioni dell'ultimo momento credo che sarò ancora disponibile chi di voi non va in qualche in qualche gita fuori porta sperando il bel tempo potrà partecipare con me alla 24esima puntata di questa narrazioni vediche io ci sarò spero che ci sarete nel caso non ci sarete comunque avremo sempre avrete sempre la possibilità anzi avremo perché anch'io lo faccio di riascoltare nel caso la la diretta su facebook o se volete anche generalmente il giorno dopo questa questo video viene postato sul canale youtube di il proprio parla grazie ancora per la serata e per la pazienza tra le altre cose non vi ho augurato una buona pasqua e quindi adesso vi auguro anche una buona pasqua Hare Krishna una buona pasqua